Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video Allora, quest'oggi ho una notizia molto 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 interessante per gli amanti, per gli adulatori di Automobilista 2 della Reza Studio Ma prima di parlare di questa bellissima notizia, voglio ricordarvi che sono attivi ancora le iscrizioni per quanto riguarda questo campionato ACC The Triple Thrill Challenge Si parte l'8 settembre Sono tre gare, Spa, Nurburgring e Monza, 8, 15 e 22 settembre Vi lascio qui sotto ovviamente il link al nostro canale Discord dedicato Le iscrizioni sono aperte fino all'infinito e in base al numero di piloti sceglieremo o meno di fare una prequalifica Per il momento siamo a già 32 iscritti, quindi sarà un campionato veramente stratosferico E ragazzi vi ricordo il campionato BTCC su RFactor 2 ragazzi che è iscrizione aperta È un campionato che avrà una prequalifica per la selezione di 27 piloti per poi creare successivamente le squadre Ragazzi c'è anche un server disponibile con il live timing in stile BTCC Stiamo preparando una live con i controfiocchi e tantissime altre sorprese Siamo sicuri che sarà un campionato avvincente con ben 5 classifiche Ragazzi stiamo cercando di dare il meglio Quindi correte ad iscrivervi se siete interessati ad uno di questi due campionati o tutte e due E ovviamente vi ricordo come nel video precedente che ci saranno degli inserimenti di vari eventi iRacing, Automobilista eccetera eccetera Quindi rimanete sintonizzati però correte ragazzi prima che questo Prima che finiscano i posti Mi raccomando ragazzi è una prequalifica Superpol ma sarà qualcosa di veramente micidiale Torniamo all'argomento principe di questo video La novità per quanto riguarda Automobilista 2 è che è stato inserito sul portale SimGrid Allora molti di voi lo conosceranno SimGrid è un portale che nasce dall'idea di tanti altri portali Ma questo è uno bello tosto Stiamo parlando di un portale che dà la possibilità di raccogliere tutti gli host ospitati Creati, tutti i server, tutte le competizioni Chiamatele come volete Dei simulatori che ci sono in giro Perché si ha la difficoltà di trovare un eventino, un campionato eccetera Quindi SimGrid si occupa di raccogliere tutti questi host E quanti ne ha raccolti ragazzi? Non so se riuscite a leggere 290 host, 290 comunità in tutto il mondo Quindi ha un certo peso E Automobilista che c'entra in tutto questo? C'entra che è stato recentemente inserito anche Automobilista 2 su SimGrid E infatti, se io vado a ricercare già delle gare su Automobilista 2 E lo vado a filtrare, iniziano già a comparire Ce ne sono tre in questo momento E ci sono anche, se non sbaglio, tre campionati su Automobilista Il bello è che è filtrato, eccetera Le date, il tipo di comunità E' un qualcosa di molto interessante Perché lo sappiamo benissimo Automobilista 2 A livello di multiplayer Ha questo difetto di non avere nessuno Comunque poca gente E questo sarà sicuramente un incentivo E viene a dare una risposta Un po' a quello che era il mio video precedente In cui parlavamo di rating e sistema di multiplayer Non potevo non darvi questa notizia Soprattutto per gli amanti di Automobilista 2 Perché è un'occasione in più Per andare oltre a Facebook Dove si ricercano tutti questi gruppi Che fanno un lavoro egregio E che saluto veramente a tutti C'è un portale con 290 host Che propone anche per Automobilista 2 Questo tipo di servizio Che è ovviamente il benvenuto Quindi ragazzi Nella speranza che questa notizia vi sia piaciuta Vi invito a lasciare un pollice in su A lasciare un commento Ad iscrivervi al canale Vi ricordo i campionati ragazzi Vi aspettiamo Sono qua che sto fremendo a fare il commento L'8 di settembre per Assetto Corsa Competizione Noi ci vediamo prestissimo Da Fabrizio è tutto Un abbraccio Ciao